Gli abitanti di Gladko sono noti in tutta la Polonia come ottime forchette. Non per nulla nella piccola cittadina si svolge ogni anno la gara delle bombe. E' una competizione a sterri ma l'ultimo boccone. L'apparenza non inganni, esili fanciulle e palli di giovanotti sono tra i più agguerriti competitori. Siamo ormai alla stretta finale. Alla 49esima bomba cede Aleksandr Wladzko. Il vincitore dell'anno passato. Via libera ormai a Theodor Kupinski, un giovanissimo alle prime spanciate. All'oscuro voracissima Outsider come premio un'oca di 20 chili. Dati i precedenti fossimo nel pennuto quella carezza ci farebbe rapprividire.